Anche il quotidiano milanese torna proprio su questo importante momento nella fase delle indagini, cioè l'interrogatorio di signori che è arrivato in procura a Cremona alle 14.10, sarebbe stato ritrovato nella sua abitazione un foglio con le regole per scommettere. Il legale di signori però ha presato che c'è tutta l'intenzione dell'ex bomber di parlare con il GIP e quindi di fare chiarezza sulla vicenda. Intanto proseguono le indagini della procura di Napoli su tre partite degli azzurri partenopei. Ha parlato di altre gare, anche di Serie A, che sarebbero state oggetto di Combine. Ne parliamo con Elio Oriente in collegamento da Milano, non prima però di ricordare il K.O. di ieri dell'Italia di Prandelli con l'Irlanda di Trapattoni. Partiamo con le immagini di Liegi dove l'Italia era partita molto bene, nei primi 20 minuti, altri ritmi, poi arriva il gol sul calcio di punizione al 34esimo di Hendriu, che è molto bravo su questa punizione di seconda a gestire il pallone, a trovare il corridoio utile per battere Viviano. Ieri inserito al primo minuto per difendere la porta azzurra da Prandelli, che si era affidato a Montolivo a ridosso delle due punte Pazzini-Giuseppe Rossi. Ecco tutta la tensione emotiva di Trapattoni con al fianco un monumento del calcio italiano, Marco Tardelli, suo collaboratore proprio alla guida dell'Eire. Gli irlandesi dunque trovano questo gol dopo una prima mezz'ora equilibrata, comunque una prima mezz'ora caratterizzata dalla maggiore iniziativa dell'Italia, questa è l'esultanza dei tifosi dell'Irlanda dopo il gol di Hendriu. La vittoria dell'Irlanda è proprio una vittoria alla Trapattoni, perché sono stati molto bravi a gestire il vantaggio, difendersi nel migliore dei modi per poi trovare il gol del raddoppio in contropiede. Nulla poteva fare Viviano su questo destro straordinario di Hendriu, un tiro secco all'angolo alla destra del portiere del Bologna e della Nazionale, Viviano. Viviano che peraltro è al centro anche di tante manovre di Marcato, ha rifiutato l'ipotesi panchina con l'Inter, probabilmente sarà ceduto ad una grande squadra di Serie A. Poi più tardi torneremo anche sulle operazioni di Marcato della Roma, perché saprà arrivare Luis Enrique proprio nella capitale, ormai la scelta sull'allenatore spagnolo è assolutamente certa e definitiva. Questo dunque è il gol, tornando alla gara di Diegi, poi l'Irlanda troverà il raddoppio sulla pressione degli Azzurri con il gol di Cox sul pareggio di Anta. Torniamo sulle immagini, torniamo con Roberto Presipi sulle immagini, intanto abbiamo visto per un attimo vari titoli dei giornali che tra poco vi faremo vedere sempre sul calcio scommesse con altre gare che emergono. Questa è la giocata di Anta che trova sul secondo palo l'inserimento di Cox e nulla da fare per Viviano. 2-0 Irlanda, capo per l'Italia. Passo indietro per gli Azzurri, anche se si trattava di un amichevole di fine stagione. Tra poco andremo a vedere invece la tripletta di Ibrahimovic per quanto riguarda le qualificazioni a Euro 2012, perché è arrivato dunque il successo della Svezia, ma soprattutto una grande prestazione dell'attaccante del Milan. Questa è la felicità contenuta di Trapattoni, che ha detto voglio sempre vincere anche quando si tratta di gare amichevoli. Lo ha dimostrato ieri con una gara molto accorta sul piano tattico, cui lascia desiderare la difesa dell'Italia sull'avanzata di Anta e non va a coprire sul secondo palo Chiellini. E dunque il gol di Cox. Torniamo per un attimo in studio. Andiamo con la grafica riassuntiva delle partite di ieri. Poi andremo anche sulle altre amichevoli internazionali che si sono giocate, perché ieri era in programma un altro gruppo di partite di qualificazione a Euro 2012. Leadership incontrastata della Germania nel gruppo A. È andata a vincere anche sul campo dell'Azerbaijan per tre reti a uno. Poi c'è un risultato a sorpresa proprio nel gruppo degli azzurri. Le isole Faroyer battono l'Estonia per due reti a zero. Un risultato che dice poco per la classifica. L'Italia è sempre in testa con cinque punti di vantaggio sulla seconda in seguitrice. La Slovenia è anche sulla Serbia ancora più lontana. Però è un risultato di prestigio proprio per le isole Faroyer che salgono quota quattro nel gruppo B. Nel gruppo D, Bielorussia che batte il Luxemburgo per due a zero. La Bosnia la meglio sull'Albania con lo stesso risultato due a zero. Bielorussia seconda, Bosnia terza in classifica. La Svezia torna a vincere con Ibrahimovic. C'è 5 a zero alla Finlandia e c'è il 3 a zero dell'Ungheria sul San Marino. Del Milan dopo una fase finale della stagione non proprio esaltante per lo svedese. Svezia che apre le marcature con Karlström. Su questo calcio di punizione c'è la deviazione quasi impercettibile che permette però ad Ambrek, vedete, tecnico svedese, di festeggiare. Inizia il migliore dei modi la gara per la Svezia in questo derby contro la Finlandia. Insulta anche Karlström. Poi c'è l'ingresso di Zlatan Ibrahimovic. Non in perfette condizioni, non era stato rischiato subito. L'attaccante del Milan che poi subito andrà in rete in tre circostanze. Peraltro in maniera sempre diversa. C'è qui il controllo con il sinistro, la palla poi indirizzata con il destro. Ecco, questa esultanza di Ibra ci spiega anche la voglia di andare in rete, di ritrovare la tranquillità e come dire, anche di sentirsi importante con una nazionale con cui non ha mai avuto uno splendido rapporto, caro Elio, ecco il raddoppio di Zlatan Ibrahimovic. Si nota proprio anche l'affiotamento con i compagni, la voglia di mandare in rete l'attaccante rosso-nero. Sì, è vero, è vero, hai perfettamente ragione. Lui, questi gol gli mancano, ricordiamoci che gli ultimi due mesi praticamente nel campionato non li ha sostanzialmente giocati perché è quasi sempre squalificato e qui adesso ha voglia, ha voglia di ripresentarsi e ha voglia di fare soprattutto anche con la sua nazionale, la naturale spedese. Zlatan Ibrahimovic che poi andrà vicino alla terza rete su calcio di punizione segnando nel secondo tempo con un perfetto stacco di testa. Proprio probabilmente il terzo gol è quello dal punto di vista della realizzazione, del gesto tecnico probabilmente più bello da vedere. Qui calcia una delle punizioni che fanno parte del suo repertorio, potenza e precisione, non è fortunato Ibrahimovic e sarà invece più fortunato nel secondo tempo, lui il protagonista assoluto di questa sfida che rilancia nettamente la Svezia per le qualificazioni Euro 2012. Qui l'arbitro riesce a non vedere un fallo proprio sullo svedese con l'ira anche del CT giallo-blu. Qui il fallo è netto, è il diretto avversario su Zlatan Ibrahimovic. Qui vedete la plateale protesta ma assolutamente comprensibile di Amrek per questo rigore non dato ma più tardi sempre sulla punizione battuta da Castrom arriverà il gol. Eccolo qui di Ibra, stacco di testa perfetto, Finlandia che in difesa fa vedere tutte le sue lacune, nessun problema per Ibra che insacca dunque il gol del 4-0. Poi arriverà il quinto gol di Beirami.